e allora sono prima di tutto io sono al centro qui perché ho preso delle cose indispensabili per marinella per mia figlia quindi era immancabile che venivo però tutto sommato mascherine mezzogiorno e pressoché è proprio desonato centro commerciale questo è bene che si capisca che stare a casa indispensabile a meno che non si devono comprare delle cose primarie necessità io ripeto per mia figlia ha comprato le cose che gli aiutano all'intestino e quindi sono dovuto venire lei fu troppo estitica sono finito le cose a casa quindi sono dovuto ricorrere in parafarmacia qui e quindi visto che ci sono ne approfitto però scappo subito per andare a casa e l'unica cosa vi faccio notare che effettivamente tanti negozi sono chiusi poca fila e ora prendo qualcosa io da bere visto che sono qui in approfitto e scappo e 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 buonissima